Se anche tu desideri arredare una barberia prestigiosa che possa differenziarsi da tutte quelle barberie anonime che hanno riempito le nostre città, allora ti consiglio di cliccare sul tasto scopri di più. Si aprirà il sito Saint Martin, troverai le nostre collezioni d'arredo con caratteristiche tecniche e prezzi in chiaro. Clicca adesso su scopri di più e richiedi un preventivo personalizzato.